Cioè la polemica è mai stata in casa, l'abbiamo capito un po', però quello non porta niente veramente. La domanda di costruzione quando presentata, chiunque può andare a dire restarsi lì anche tre giorni a guardarsi tutte le quali miei studi, tutti i documenti. Qui l'idea dei miei clienti era quella di comunque fare una presentazione che comunque darà un risalto, un potere rendersi conto, più che vedere la pagina interia, studi di impatto ambientale, eccetera, eccetera, che ci saranno comunque la domanda di costruzione. Quindi è stata una scelta, magari signore è una scelta sbagliata, ma nessuno si voleva vedere un attimino con questo tipo di presentazione, con gli slide, eccetera, eccetera, quello che era l'idea del progetto. Che come dico, da quanto mi hanno riferito, è già abbastanza dettagliato, tanto che parlano 10 giorni, la settimana, la terza, la domanda di costruzione. E lì ognuno, ma secondo me, non è personalmente, e la scelta non l'ho fatta io, ma io condivino i nomini che qui, concorda. Progettiamo tutti, naturalmente io, tutti i disegni, tutte le cose, le tecniche.